Isola dei famosi, naufraga spiazzata da una lettera. Nelle ultime ore il reality condotto da Vladimir Luxuri è stato travolto dalle polemiche dopo le parole shock di Fabrizio Corona. Il noto esperto di gossip ha sparato, ma come caz fai a far condurre a un uomo vestito da donna, perché è il Pisel Zero, un reality su Canale 5 che guardano le famiglie. Un uomo colpi asterisco truccato con le tette finte vestito da donna. L'ex re dei paparazzi ha anche criticato la scelta dei due opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, e parlato degli ascolti al 12%. In ogni caso lo show deve andare avanti e ormai si contano le giorni che mancano alla finale del 5 giugno. Intanto si è scoperto che Edoardo Franco dovrebbe diventare il secondo finalista dopo Edoardo Stoppa, l'unico sicuro di approdare all'atto conclusivo del programma. Nelle ultime ore Alvina Verecondi-Scortecci ha ricevuto una lettera da parte del suo fidanzato Gigi, o presunto tale. L'uomo ha voluto dedicarle pensieri d'amore e dolci parole. La concorrente, che poche ore prima si era lamentata del silenzio del compagno, è stata piacevolmente sorpresa e colpita e ha voluto leggere la lettera davanti a tutti gli altri compagni d'avventura. Gigi ha parlato del timore che ha provato quando ha saputo che sarebbe partita per l'isola. Era un po' preoccupato. Poi però ha visto come grazie alla sua energia e al suo sorriso Alvina il superstar sia diventata la vera anima dell'isola, senza mai perdere la determinazione, sei una forza della natura. Ti aspetto al tuo ritorno, Gigione. Poco dopo è arrivata la reazione dei naufraghi a quelle parole. Tanti hanno sottolineato che il contenuto fosse assettico. Artur Deinesse ha detto che Gigi avrebbe fatto più bella figura a non scrivere nulla. Edoardo Franco ha preferito rimanere in silenzio se no ne avrebbe dette di ogni. Effettivamente anche Alvina dopo un po' ha rivalutato le parole scritte nella lettera e ha affermato che Gigi avrebbe potuto dire qualcosa di più personale. E voi, che ne pensate? Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.